ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani oggi vorrei parlarvi della nuova energia di amore che potenzia la manifestazione della tua realtà ebbene sì anima infinita oggi è possibile accedere a nuove nuove frequenze nuove frequenze che in un certo livello aiutano a riequilibrare a livello fisico mentale emozionale spirituale ma in un altro aspetto della nuova energia noi possiamo utilizzare questa nuova energia per la nostra manifestazione diciamolo così a qualche livello l'amore divino sta venendo incontro a noi mentre prima si vibrava in frequenze veramente dense basse era molto difficile manifestare il nome dell'amore perché l'energia egoica era molto forte era schiacciante ok opprimente e si viveva nella falsità nelle nella menzogna nelle bugie e tutti un po' addormentati o un po' obbligati a vivere in una società dove l'ego vinceva su tutto oggi le cose stanno cambiando le nuove frequenze la nuova energia sta portando verità saggezza ed integrità ma come Rossella ma cosa stai dicendo c'è la guerra là fuori avete ragione ma è vero che oggi le anime sono più sveglie è vero che noi oggi non accettiamo più delle cose che invece prima diciamo prima noi permettevamo alle forze di comandarci al di controllarci sta venendo invece un risveglio dove le anime le persone si stanno rendendo conto che vogliono vivere una vita di gioia di amore vogliono uscire dal dolore vogliono vogliono uscire dalla schiavitù vogliono uscire dal sistema a qualche livello no ok il vero risveglio è il risveglio alla consapevolezza il risveglio all'amore è anche vero che nel 2009 è uscito il film di the secret no se non sbaglio il film io ho letto il libro poi dopo forse neanche un anno uscito il film e questo ha aperto le coscienze nel senso che le anime hanno iniziato a dire io sono io manifesto la mia realtà è vero quando sono giù di morale mi accapita di tutto la nuvoletta di fantozi e tutto va storto e accadono cose sincroniche negative non va bene mentre invece quando sono felice allegro sembra che la vita mi sorrida tutti sono gentili con me accadono cose meravigliose le sincronicità divine arrivano in nome dell'amore ma come è possibile ecco che le persone si accorgono della differenza energetica e di come effettivamente la legge dell'attrazione porta verità nel senso che noi manifestiamo la nostra realtà nel bene e nel male e diventiamo consapevoli del fatto che molti molte anime che mi seguono io non faccio altro che parlare del fatto che l'inconscio a vincere sulla nostra volontà ma che la no deve partire dalla nostra volontà la voglia di cambiare di riprogrammare l'inconscio alla nostra volontà affinché si possa inchinare a chi noi siamo veramente e quindi la legge dell'attrazione a porta ha sconvolto la vita di tante persone ci sono anime che non credono non vogliono crederci non vogliono impegnarsi per cambiare la propria realtà perché sembra difficile impegnativo e infatti lo è in parte altri invece hanno passato e stanno passando la loro vita a studiare la legge dell'attrazione chiamate la legge dell'attrazione chiamate la legge della vibrazione chiamate la legge della risonanza la legge della risonanza della vibrazione dell'attrazione dicono che noi attraiamo i nostri simili nei pensieri noi attraiamo i nostri simili nell'energia diciamo che quando attiriamo degli eventi dove noi siamo vittime abbiamo attratto il carnefice perché inconsciamente come vittime attiriamo i carnefici e quindi è un circolo vizioso va bene ma è possibile uscirne basta uscire dal ruolo di vittima e riprogrammare l'inconscio e dire al nostro inconscio io sono potente io sono amore io merito sono degno di ricevere amore ricchezza denaro prosperità abbondanza salute perfetta gioia infinita bellezza grandezza fratellanza sorellanza ecco iniziare a parlare in grande il nome dell'amore arriviamo al dunque perché voglio essere chiara per spiegare che la legge dell'attrazione funziona ma sta accadendo un capovolgimento delle forze e vorrei farvelo notare là fuori nel mondo della 3d guardiamo la televisione oggi è più semplice riconoscere chi parla nella verità nella saggezza e nell'integrità guardiamo i nostri politici oggi è più semplice vedere quando vibrano nell'ego o nella verità guardiamo i nostri presentatori in tv oggi è più semplice riconoscere chi è nell'integrità e nella verità guardiamo i nostri maestri spirituali oggi è più semplice vedere se parlano nella verità e nell'integrità ma naturalmente anime infinite per fare questo ci vuole centratura presenza equilibrio risonanza se state guardando questo video forse la vostra anima vuole fare chiarezza su ciò che è l'ego e su ciò che è l'amore ego è finzione ego è manipolazione ego è io vinco gli altri perdono ego è manifestare nell'ego significa voglio dire io voglio raggiungere la ricchezza ok se io manifesto la ricchezza in nome dell'ego dove io vinco gli altri perdono questa è un'energia vecchia un'energia obsoleta abbiamo detto nei video precedenti dove ho parlato della matrix ho fatto tantissimi video dove parlo dell'ego l'ego è destinato a cadere perché a livello animico è stato stabilito che vi sarà una rinascita nell'amore ci sarà una nuova terra ossia la manifestazione di un nuovo paradigma d'amore ricordiamoci che amore è bellezza gioia cuore passione entusiasmo gentilezza compassione perdono ma è anche verità saggezza e integrità e questa onda energetica che sta arrivando sta smascherando cosa leggo caspiterina leggo nelle persone in noi che stiamo vivendo la nostra trasmutazione il nostro ego sta crollando quindi se noi non siamo nell'integrità le persone lo avvertono diciamo che è più semplice avvertire l'ego nel prossimo piuttosto che noi stessi ma se facciamo un atto di umiltà non giudichiamo l'ego degli altri e neanche di noi stessi su noi stessi iniziamo a trasmutare il piombo in oro e diventiamo amore e senza divina ritorniamo a chi noi siamo veramente e sugli altri mandiamo perdono amore e compassione e quando noi facciamo questo arriva il processo alchemico più potente nell'universo ecco che l'intero universo arriva ad aiutarci a soccorrerci ad innalzarci ad elevarci ad aiutarci a manifestare i nostri sogni anche di abbondanza voglio parlare di un messaggio potente che mi è arrivato nel 2019 e che oggi inizio a comprendere in un livello superiore michele disse in una canalizzazione guardate qui il progetto ascoltate qui il processo del perdono vi consiglio di ascoltare la canalizzazione di michele che dice anime infinite i poveri ricchi di cuore diventeranno ricchi ma i ricchi poveri di cuore perderanno tutto ma cosa vuol dire che i ricchi diventeranno poveri non anime infinite i ricchi poveri di cuore perderanno tutto i poveri poveri di cuore rimarranno poveri i ricchi ricchi di cuore faranno ancora più bene di quello che già stanno facendo quindi non c'è giudizio attacco ai ricchi ai poveri i poveri sono stufi di essere poveri ok perché la povertà non ti porta da nessuna parte la ricchezza è ricchezza nell'amore nell'animo ma anche una vita dignitosa una vita di abbondanza di gioia di passione seguire il cuore seguire la propria missione dell'anima e noi avevamo paura io quando iniziato nel 2009 questa strada incerta di dover parlare di spiritualità in un mondo 3d ancora denso dove c'erano giusto cioè in america magari erano molto più avanti ma qua in italia in sardegna io arrivo da un paesino al paesino cittadina al centro della sardegna dove veramente non mi capivano cioè parlavo una lingua completamente diversa ma sono arrivata alle persone le persone iniziano a comprendere il linguaggio dell'amore il linguaggio dell'arcangelo michele che mi ha illuminata mi ha elevata mi ha innalzata mi ha aiutato a prendere coscienza di chi io sono l'importanza di manifestare abbondanza perché dio è uguale amore dio è uguale abbondanza un abbondanza nella frequenza dell'amore e non dell'ego e vi spiego perché quante persone avete conosciuto che magari stanno bene economicamente sono ricche hanno tutta la macchina hanno le case e sono depresse e si lamentano dalla mattina alla sera e magari sono anche malati fisicamente e tutto il mondo gli sta crollando addosso perché perché non stanno vivendo nell'anima e nel cuore quindi assolutamente l'abbondanza è benedetta ma l'abbondanza non deve essere egocentrismo ed egoismo abbondanza significa io soddisfo i miei bisogni anche di essere appagata realizzata soddisfatta di avere successo in quello che io faccio un successo di amore voglio dire poniamoci le domande giuste perché voglio avere successo perché le persone così mi adorano o perché voglio portare un contributo nel mondo e arrivando a più persone posso cambiare il mondo e posso migliorare questo mondo a prescindere che tu sia un maestro una maestra spirituale un coach una coach uno psicologo uno psichiatra un io conosco veramente arrivano a me tanti come si chiamano quelli che aiutano gli anziani ne arrivano veramente tanti tra i miei clienti sono in tanti gli operatori sociosanitari infermieri che vogliono aiutare il prossimo e che stanno sentendo la chiamata di servire anche dal punto di vista della spiritualità con le sessioni di riequilibrio energetico con le letture angeliche con un supporto energetico e animico e così via no ma tu potresti avere anche voglio dire qualsiasi lavoro che ti piace che risuona con la tua anima va bene perché se tu senti che quella è la tua missione qual è la tua missione va bene io ho una ragazza speciale che sta studiando con me nei miei corsi e lei fa delle candele fa gli angioletti gli unicorni fa tutte queste cosette meravigliose lei il suo sogno è avere un laboratorio ma lei esprime la sua arte sa di essere una un'operatrice olistica sa di essere una facilitatrice della guarigione e vuole integrare queste discipline per aiutare gli altri e quindi abbondanza significa realizzare i miei sogni dell'anima e questo cosa succede che tutto tutto l'universo inizierà a supportarti ripeto fino a vent'anni fa questo era più difficile ci volevano anni per trasmuttare le energie per liberarsi dai blocchi per sciogliere i voti ma voglio dire oggi è possibile sciogliere più velocemente i blocchi e le resistenze e riprogrammarci attraverso le affermazioni attraverso logo ceiling per chi non lo conosce andate a guardare nei miei video cos'è logo ceiling io lo mostro il potere di logo ceiling logo ceiling trasforma la tua realtà ok e voglio dire quindi affermazioni sentire la gioia lavorare per cambiare la nostra energia perché no oggi è più semplice risuonare con le altre frequenze prima ci volevano anni per salire bisognava isolarsi andare in una montagna meditare per anni per riuscire a trovare la gioia la pace la serenità e staccarsi dalla 3d oggi staccarsi dalla 3d basta andare a fare una passeggiata nella natura fare affermazioni positive logo ceiling preghiere di liberazione lavoro di liberazione con michele e arriviamo ora al dunque il consiglio che io vi do lavorate con l'arcangelo michele perché l'arcangelo michele è ben felice di aiutarvi a manifestare i vostri sogni di abbondanza abbondanza vuol dire abbondanza economica abbondanza nelle relazioni abbondanza nella salute abbondanza nella gioia abbondanza nella felicità abbondanza nel contribuire a manifestare la nuova terra perché quando la tua anima inizia a risvegliarsi il tuo scopo è quello di contribuire a fare del bene per portare gioia e non miseria disperazione paura perché se tu vibri lì non ce la fai aiutare gli altri puoi aiutare gli altri se tu sei in una frequenza di pace armonia serenità e gioia entusiasmo bellezza e grandezza no e questo sta avvenendo perché abbiamo degli aiuti energetici e spirituali lavorare con l'arcangelo michele ti porta a fare un grande lavoro di traslucione ti porta ad accelerare il processo alchemico di traslucione dal piombo in oro cioè ti aiuta a perdonare più velocemente ti aiuta a liberarti dai blocchi dai voti dai patti dagli accordi dagli impianti dalle promesse che ti stanno limitando in questa vita e che ti stanno impedendo magari anche di avere uno stipendio normale perché hai fatto voti di povertà e quindi non riesci nemmeno a trovare il lavoro fisso o un lavoro un lavoro normale tra virgolette per normale intendo nella media non riesci nemmeno a fare quello perché sei bloccato sei bloccata puoi uscire da questa cosa che io chiamo matrix puoi uscire da questa cappa tu puoi uscirne con le preghiere ragazzi ho queste preghiere le ho messe a disposizione gratuita le trovate su youtube e sono la preghiera di anche sul mio sito internet connessioni angeliche.com nelle risorse gratuite preghiera di protezione psichica preghiera di protezione della casa e degli ambienti processo di liberazione purificazione dei chakra e radicamento ok questa è la base che già ti sprogramma al 90 per cento va bene dopodiché devi anche fare un lavoro di riprogrammazione dove tu inizi ad affermare chi tu vuoi essere però io voglio essere chiara se le tue intenzioni non sono pure di amore questo essere meraviglioso non ti aiuterà michele non scende a compromessi michele non ti nasconderà non ti proteggerà se le tue intenzioni non sono pure di amore michele ti aiuterà ti sosterrà ti eleverà ti innalzerà ti guiderà farà tutto per aiutarti ad accelerare il processo di manifestazione nell'abbondanza se le tue intenzioni sono pure di amore michele lavora con le forze dell'amore ragazzi è un un cioè c'è un capite questo movimento amore ego amore ego amore ego l'ego sta perdendo energia l'amore sta crescendo e se tu in questo momento stai vibrando nella paura nell'ego nella disperazione l'amore se tu vuoi se chiedi aiuto arriva e ti innalza ti eleva e ti porta su ma se tu continui ad arrabbiarti a maledire ad essere geloso invidioso rabbioso competitivo non credi in queste cose che sto dicendo credi che siano tutte fesserie continuerai a manifestare la tua realtà in base alla tua frequenza ma se tu scegli la via maestra dell'amore ragazzi l'ho scritto anche qui la via maestra dell'amore attraverso degli step ti innalza ti eleva ti espande e manifestare i tuoi sogni sarà molto molto più semplice perché oggi le energie ci aiutano ci sostengono ci elevano diciamo che è più semplice ritornare a chi noi siamo veramente se prima ci volevano dieci anni in tibet per raggiungere la connessione divina oggi magari ci vogliono sei mesi un anno tre mesi un mese dipende da quanto sei centrato e hai anche la possibilità di trovare il tuo spazio sacro un'ora al giorno due ore al giorno io ragazzi ve lo dico dipende da quanto tu vuoi ottenere un risultato preciso perché se tu vuoi manifestare un lavoro entro un mese non è che ti fai due preghiere e lo magari lo manifesti anche però magari devi fare le preghiere che ti ho detto le affermazioni positive la riprogrammazione magari impari ti informi anche su logo ceiling io te ne parlo perché è una tecnica che ho creato io arriva dalla logo sintesi ma michele mi ha aiutato a canalizzare le frasi in una maniera a mio parere a mio sentire più potente e che veramente accelera il processo di trasmutazione veramente da uno stato di rabbia di paura ti porta in uno stato di pace di amore i miei studenti rimangono incantati dalla velocità in cui cambiano il loro stato e loro loro la loro energia il segreto è secondo la legge della risonanza tu vibri qui e se vibri qui attiri delle cose che vibrano nella tua stessa frequenza ok perché risuoni e se sei amore tutto ciò che amore arriva a te compresa l'abbondanza abbondanza in nome dell'amore un abbondanza di gioia cioè raggiungerai la tua ricchezza per come la intendi tu che possa essere economica nelle relazioni nella salute nella bellezza nella grandezza nella fratellanza nella sorellanza il compagno di vita la compagna di vita e sentirai la gioia nel cuore e questa la nuova energia non ha senso manifestare cose materiali se siamo infelici tristi depressi malati e ormai quella è la vecchia energia non ci serve e quindi il segreto qual è il segreto è e vabbè non sarò ripetitiva uscire dall'ego uscire dalla paura va bene ok uscire dalla rabbia dal rancore dalla sofferenza e oggi abbiamo degli strumenti per farlo anime infinite e se non ce la fai da solo impara da chi già è avanti nel cammino per quanto mi riguarda puoi fare altri usare altri strumenti ci mancherebbe altro ricordati però di usare la via maestra dell'amore ce la puoi fare anche senza di me basta che ti impegni e dedichi una due tre ore al giorno impegni come una palestra voglio dire anime infinita non hai un lavoro hai tanto tempo a disposizione dedicalo per il tuo lavoro su te stesso su te stessa dedicalo per guarire te stesso e te stessa per elevare innalzare la tua frequenza lavora per cambiare la tua energia perché se cambierai la tua energia cambierai la tua realtà e se tu senti nel cuore che la via maestra dell'amore quella che risuona nel tuo cuore io ti posso garantire che questo essere straordinario ti aiuterà a trasformare la tua vita quindi vai su youtube guarda le mie preghiere ascoltale ascoltali tutti i giorni o recitali se le vuoi recitare c'è anche il formato in pdf nel mio sito sono gratuite ma hanno un valore straordinario ok e dopo che vedrai il potere di queste preghiere già dopo una settimana dieci giorni inizieranno a cambiare anche le cose intorno a te ciò che non risuona con te si allontanerà da te questo te lo dico se tu stai vivendo una vita che non è in risonanza con l'amore inizierai a vederlo a notarlo anche in maniera forte perché michele ti vuole spingere a cambiare direzione se hai delle resistenze iniziali può darsi che alcune forze egoiche stanno cercando di fermarti continua a fare le preghiere con amore e determinazione e vedrai che dopo pochi giorni queste forze andranno via e se tu senti che la via maestra dell'amore dell'arcangelo michele per te inizierai a trasformare la tua vita fisicamente energeticamente le relazioni i lavori io ho tante testimonianze basta che andate a guardare le testimonianze delle persone che hanno partecipato ai miei percorsi perché in nove settimane loro hanno visto trasformare la loro vita hanno visto una ragazza che una ragazza straniera è riuscita a ottenere i documenti era anni che cercava di ottenere i documenti da poco mi ha chiamato mi ha detto che l'hanno presa in un'accademia di musica di canto ha ottenuto un prestito quindi potrà studiare musica quindi cambierà anche il suo lavoro si sta innalzando si sta elevando sta seguendo la sua missione o una maestra di guarigione una sciamana straordinaria mi ha detto che il suo livello economico è migliorato stanno arrivando tante persone a lei quindi la tua vita con michele può cambiare anche nell'abbondanza anche nella gioia anche nelle relazioni anche nella bellezza manifestare con l'arcangelo michele e la coscienza michaelica può cambiare la tua vita nella gioia nell'amore sai che c'è che la tua gioia il tuo amore è contagioso perché tu irradierai la luce ovunque seminerai stelline di gioia e questo contribuirà alla manifestazione della nuova terra quindi la mia domanda è è meglio manifestare nell'ego o è meglio manifestare nell'amore sta a te la scelta anima infinita se la tua risposta è voglio manifestare nell'amore ok inizio con le preghiere poi mi arrangio da solo mi arrangio da sola benissimo vai avanti e non fermarti michele ti aiuterà ma se tu dentro di te vuoi un aiuto nella manifestazione dei tuoi desideri vorrei informarti che faccio dei percorsi di manifestazione e qui il video dove presento il mio il mio corso di manifestazione ragazzi non è una sponsorizzazione è un invito laddove tu hai bisogno di un aiuto se hai bisogno di un aiuto non c'è niente di male a chiedere a chi è un pochino più avanti nel cammino io non sono arrivata da nessuna parte ma la mia vita negli ultimi anni grazie all'arcangelo michele ha fatto un salto quantico se sono cambiata io se la mia realtà sta cambiando in meglio in nome dell'amore anche la tua può cambiare io ti abbraccio ti saluto un bacione immenso tanta luce tanto amore e che la via maestra dell'amore sia con te insieme all'arcangelo michele ciao anima infinita